Garantire la sicurezza alimentare con una crescita sostenibile è una delle più grandi sfide del mondo. Noi siamo qui per aiutarti ad affrontare questa sfida, non importa dove e su quale cultura. Per questo Compo Expert sviluppa e produce specialità per la nutrizione in frutticoltura, orticoltura, culture estensive, vivaismo e floricultura, così come per il tappeto erboso e il verde ornamentale. Con sede in Germania e con più di 20 filiali in tutto il mondo, siamo anche parte di Grupa Azoti, la più grande azienda chimica della Polonia. Grazie alla forte presenza in Europa, che rappresenta il nostro caposaldo, stiamo promuovendo la crescita agricola di paesi emergenti quali Sud America e Asia. Il cuore della nostra produzione mondiale è l'impianto di Krefeld. I nostri processi produttivi sono certificati e soddisfano i più elevati standard di certificazione ISO. Nel sito produttivo di La Val du Chaux in Spagna produciamo le specialità fertilizzanti idrosolubili. Altri due siti produttivi hanno sede a Deinze in Belgio e Patrasso in Grecia. Selezioniamo con cura le migliori materie prime per garantire un'innovativa gamma di prodotti che si compone di fertilizzanti minerali stabilizzati, a lenta cessione e a cessione controllata, idrosolubili e liquidi, così come biostimolanti e attivatori del suolo. Per mantenere la nostra leadership di mercato e far fronte ai fabbisogni dei nostri clienti in tutto il mondo, il nostro reparto di ricerca e sviluppo si impegna a puntare sull'efficienza della nutrizione delle culture. In collaborazione con una rete mondiale di istituti di ricerca, università e società partner, ci poniamo come obiettivo l'ottimizzazione della qualità dei prodotti, che siano quanto più possibile rispettose dell'ambiente. Una crescita sostenibile può essere ottenuta solo considerando la tutela dell'ambiente e la responsabilità sociale come una parte fondamentale del nostro business. Per questo siamo orgogliosi di condividere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Ma ciò che ci rende veramente speciali in Compo Expert è sapere di far parte di una grande famiglia. Ciascun collaboratore lavora quanto più possibile in stretto contatto con i nostri clienti per comprenderne le esigenze, offrire la propria competenza e aiutarli ad affrontare le loro sfide. In qualità di tuo partner affidabile, faremo sempre del nostro meglio per offrirti i piani nutrizionali più efficienti e completi. In tutto il mondo, per aiutarti a nutrire il mondo. Perché noi siamo i tuoi Experts for Growth.